In vista delle prossime elezioni amministrative a Teramo l'assessore Pietro Quaresimale non si candiderà ad annunciarlo in un comunicato stampa proprio l'assessore regionale, le politiche del lavoro, politiche sociali, istruzione e formazione ed esponente della Lega che ha dichiarato che il segretario regionale del partito Luigi Deramo e il segretario provinciale Ivan Costantini gli hanno chiesto di rimanere in regione. Innanzitutto con rammarico prendiamo atto della decisione del tavolo nazionale e ringraziamo l'assessore Quaresimale che ieri ha ritirato la sua disponibilità alla candidatura, il tavolo nazionale pare sia dando l'indicazione di andare su Antonetti, noi siamo uomini di partito e quindi seguiremo quelle che sono le indicazioni del tavolo nazionale, pensiamo come Lega di aver dato la possibilità ai cittadini terramani di esprimere una preferenza nei confronti dell'uomo più forte che noi abbiamo sicuramente su Teramo che è Pietro Quaresimale, l'assessore regionale, se il tavolo nazionale ci dirà invece di fare altro con rispetto nei confronti dei partiti della coalizione faremo quello che ci verrà detto. Purtroppo quando si va sul tavolo nazionale può succedere che arrivano delle indicazioni diverse rispetto a quelle spesse al tavolo regionale, ripeto ringraziamo per la grande disponibilità di Pietro Quaresimale che ha dato per il bene della città di terra una sua disponibilità ritirata ieri sera con un comunicato stampa e vediamo cosa accadrà nelle prossime ore, però ormai sembra quasi delineato che il centrodestra converga su Antonetti. Per la coalizione di centrodestra dunque si profila l'appoggio a Carlo Antonetti, già candidato di Azione Futuro In, decisione che fa rimanere invariato il numero dei candidati che con il passo indietro di Quaresimale rimangono tre, Antonetti, Marroni e il sindaco uscente d'Alberto.